Follia di Capodanno, 16enne sparato al volto a Caivano, più di 20 feriti in Campania per festeggiare con i botti. La fine dell'anno, un 22enne nel Casertano perde due dita, mentre un 16enne del Parco Verde di Caivano è colpito al volto da un colpo d'arma da fuoco. L'ite finisce nel sangue, ventenne in fin di vita, è successo stamani alle 7 a Torrette di Mercogliano, nei pressi di una cornetteria frequentata da giovani. La vittima non ha precedenti penali ed è dell'orione San Tommaso di Avellino. Napoli Capodanno record, 50.000 a Piazza Plebiscito, Peppe Iodice mattatore della lunga notte di Capodanno, il messaggio del sindaco Manfredi, 2023 di speranza, di futuro, di giovani, anche di solidarietà ed equità. Successo per i Negra Bar a Salerno e Clementino ad Avellino. Salerno sole, tempo vite per il bagno di Capodanno. Sulla spiaggia cittadina si è rinnovato l'appuntamento con il tuffo di Capodanno, una tradizione che va avanti da circa 40 anni. Il tempo vite ha favorito la partecipazione all'iniziativa di buon auspicio per il nuovo anno. Primi nati, stavolta vince il San Pio di Benevento. Sono Sannite le prime nate del 2023 in Campania, due bimbe venute al mondo a mezzanotte e un minuto all'ospedale Sannita. Primato frutto di un grande lavoro di equip, spiegano i medici. Napoli testa all'Inter, la carica di De Laurentiis. Ripartire dalla squadra straordinaria vista nel 2022, così il presidente del club fa gli auguri di buon anno ai tifosi. Intanto tutto l'ambiente scalpita in vista dell'Inter. In bigenario di fuoco per il Benevento a caccia di rinforzi. Questi titoli di oggi, auguri di buon anno da 8 Channel. E allora, in apertura, più di 20 feriti in Campania per i botti di fine anno. Un 22enne nel Casertano perde due dita, mentre un 16enne del Parco Verde di Caivano colpito al volto da un colpo. D'arma da fuoco. Sentiamo Cristiano Vella. Solito bollettino in fausto dopo i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno in Campania. Tra incidenti con i botti e armi da fuoco, che purtroppo vengono ancora tirate fuori per l'occasione, sono poco più di 20 i feriti in tutta la regione. L'incidente peggiore si è verificato a Sant'Ammaro, in provincia di Caserta, dove un 22enne ha subito l'amputazione di due dita della mano destra e una lesione all'occhio destro. Non è in pericolo di vita. Quattro i feriti nel Salernitano. Il più grave è un 47enne ricoverato all'ospedale di Vallo della Lucania, che ha riportato traumi farciali e problemi agli occhi ed è stato giudicato guaribile in 25 giorni. Ferita persino una bimba di 4 anni che ha riportato lievi ustioni ad una palpebra e ad una mano. 16 i feriti nel Napoletano. Un 16enne al Parco Verde di Caivano è stato colpito al volto, probabilmente da un colpo d'arma da fuoco, visto che all'ospedale hanno verificato che il ragazzo aveva un foro all'altezza della mascella destra e l'altro alla mascella sinistra, presumibilmente da entrata e uscita di un colpo d'arma da fuoco. Ma il ragazzo miracolosamente sta bene ed è stato giudicato guaribile in 10 giorni, mentre sulla vicenda indagano i carabinieri. Non si registrano ferite a causa dei botti e dei festeggiamenti, invece, nelle province di Benevento ed Avellino. Indagini in corso sull'agguato di Capodanno ad Afragola. Nel Napoletano, un uomo di 38 anni, Luigi Mocerino, originario di Acerra, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco per strada mentre stava entrando in una salumeria. Alcune persone lo avrebbero centrato alle spalle con tre o quattro colpi di pistola. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine. Sull'omicidio indagano i carabinieri di Casoria. E a Torrette di Mercogliano, in Irpinia, una lite finisce nel sangue. Un ventenne in fin di vite è successo stamattina alle sette nei pressi di una cornetteria frequentata da giovani. La vittima non ha precedenti penali ed è del rione San Tommaso, del capoluogo irpino. Vediamo. Dramma di Capodanno a Mercogliano, alle sette di questa mattina in via Nazionale Torrette, è stato accoltellato da persona al momento ignota un giovane del 2002, RB incensurato di Avellino, che ha accompagnato presso il pronto soccorso dell'ospedale Moscati e in condizioni molto gravi ed è stato dichiarato in pericolo di vita. Colpito da tre fendenti alla gola, all'addome e alla schiena, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Il giovane è andato in arresto cardiaco, lo hanno dovuto intubare tramite tracheostomia e lo hanno portato in sala operatoria. Adesso si trova ricoverato presso il reparto di rianimazione del Moscati. Procede la squadra mobile della questura di Avellino. Da chiarire il movente, in particolare se il ferimento sia scaturito al termine di una lite improvvisa. L'aggressione è avvenuta nei pressi di un bar aperto anche di notte e abitualmente frequentato da giovanissimi. Il ragazzo è stato accompagnato al pronto soccorso da alcuni amici. Scioccato, Don Vitaliano della Sala, parroco di Mercogliano. Da un segnale pessimo a questo inizio di anno. Insomma, guai a fare della violenza lo scopo della vita, ma anche a risolvere semmai una discussione, una lite a risolverla col coltello o con la pistola. Don Lorenzo Milani mostrava ai ragazzi del suo oratorio una foto di un condannato, di un torturato e diceva a bruciapela ai ragazzi, tu da che parte stai? E quelli indicavano quello che stava sotto, quello che stava subendo, senza chiedersi se aveva torto, ragione, se era un delinquente che era punito. Non è mai giusto che finisca appunto con le coltellate o con le pistolettate. Il 2022 si è chiuso con due incidenti mortali nel Salernitano. A Domignano ha perso la vita una bimba di sei anni che nel pomeriggio di ieri era rimasta coinvolta in un grave incidente. Nell'impatto avvenuto lungo la Statale 18 erano rimaste ferite quattro persone, di cui tre bambini. Un altro incidente avvenuto in località Santa Cecilia, ad Eboli. A perdere la vita è stato uno straniero che viaggiava in sella ad uno scooter. Fatale l'impatto con un'auto che percorreva la Statale 18. Cambiamo argomento in 50.000 a Piazza del Plebiscito a Napoli per l'arrivo del 2023. Peppe Iodice, mattatore della lunga notte di Capodanno. Vediamo. 3, 2, 1 E' stata una grande festa la lunga notte di Capodanno a Napoli in 50.000 in strada per l'arrivo del 2023. Grande mattatore del Plebiscito Peppe Iodice. Questa è Napoli! Mamma mia! Con lui sul palco, nella piazza più bella d'Italia, Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Biagio Izzo, Gianni Simioli, Lina Sastri, Clementino, Andrea Sannino, Rosario Miraggio, Gianluca Capocci, tutti insieme per una lunga notte da sogno. Numeri pazzeschi, c'è una grande voglia di stare insieme, una grande energia, tantissimi napoletani e napoletani, ma tantissimi turisti in un abbraccio che noi mandiamo a tutti coloro che oggi stanno in difficoltà, a coloro che stanno in guerra, quindi tanta energia da Napoli. Stasera il programma si chiude a San Domenico Maggiore, con l'omaggio al maestro Roberto De Simone, nell'anno in cui cadono i 90 anni del grande compositore. Ieri sera sul palco del plebiscito, spazio a musica, divertimento, show, con tanti artisti che hanno salutato insieme ai napoletani e ai turisti il 2023. E a Salerno circa 10.000 persone hanno atteso l'arrivo del nuovo anno in Piazza Mendola, dove si è svolto il concerto dei Negramaro. Sentiamo. Salerno ha salutato l'arrivo del 2023 sulle note dei Negramaro. Circa 10.000 le presenze in Piazza Mendola per assistere al concerto della band Salentina, uno spettacolo entusiasmante che ha richiamato visitatori e spettatori da ogni parte d'Italia. Allo scoccar della mezzanotte, il brindisi al quale ha preso parte anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, e lo spettacolo dei fuochi pirotecnici che hanno illuminato il cielo di Salerno. Ma ascoltiamo un po' le voci dei salernitani su quelle che sono le aspettative in vista del nuovo anno. La pace nel mondo è una vita migliore per tutti e speriamo che anche l'economia del paese possa andare meglio. È il lavoro che migliora le persone, la loro vita e li consente di guardare il futuro in maniera sicuramente migliore. Un anno per iniziare e dimenticare tutto quello che abbiamo già sopportato negli anni precedenti. Un periodo più sereno dal punto di vista pandemico di questo grosso problema che abbiamo avuto per circa tre anni. Speriamo che sia un anno buono e non quello che abbiamo appena trascorso o gli altri due, 2020 e 2021. Speriamo nella pace, speriamo in un'economia che cresce e speriamo che ci sia turismo in Italia. E ad Avellino il rap di Clementino ha acceso l'entusiasmo di tantissimi giovani. Vediamo. La festa di Capodanno di Avellino è andata avanti fino a Notte Fonda con la musica dei disco club Paradiso e soprattutto di Clementino. Corso Vittorio Emanuele Stracolmo per la soddisfazione del sindaco. Gianluca Festa E il giorno dopo gli avellinesi sono forieri di speranze per questo 2023. Queste festività hanno portato un vento nuovo in città. L'augurio è che sia davvero un anno di svolta e rinascita. Che finisca questa guerra, la salute è la cosa più importante per tutti noi. Con una grande ripresa economica che secondo me è importante per tutto il paese. Quindi auguro un buon anno 2023 a tutti quanti. Felicità, serenità e tante prospettive realizzabili. Per la città? Si spera sempre in una ripartenza positiva, partendo però dalle cose positive che sono state fatte. C'è tanta gente in strada, i festeggiamenti sono andati abbastanza bene. Che dire? Buon anno! E speriamo che sia un anno di svolta completa e auguri a tutti. Che sia un anno di felicità, gioia e complimenti anche all'amministrazione. Ieri sera ci siamo divertiti, sono rimasta in città. Niente concerto in piazza Benevento, ma Capodanno con parenti e amici per chi ha scelto il sannio per trascorrere queste festività. Non mancano anche questa mattina i turisti in centro a Benevento. In Matedesco. Capodanno in famiglia per molti sanniti e non manca chi ha scelto Benevento per trascorrere le festività. Ma per il nuovo anno c'è tanta voglia di cambiamento e soprattutto di serenità. Com'è stato il Capodanno a Benevento? È stato un bello, è una cittadina molto tranquilla. Trascorso in famiglia, per la prima volta a Benevento, una bellissima città e direi anche molto elegante. Lo festeggiamo in famiglia. Abbiamo ballato, abbiamo mangiato. In famiglia l'amore della famiglia, anche perché i figli stanno fuori, quindi è una gioia averla a casa. Allora amici, siamo stati in famiglia, siamo stati benissimi. Aspettative per il nuovo anno? Beh, sicuramente di diventare più produttivi. Eh, vince la lotteria, non andrebbe mai. Salute, pace e serenità. Pace, serenità e salute soprattutto. Che uno sia bene in salute. La salute. Vorremmo che qualcosa cambiasse nel mondo, non vorremmo sentire più guerre, tristezze. La serenità. Un po' di pace in più. Attenzione inoltre rivolta ai giovani e al lavoro. Lavoro per i giovani. Maggiormente, questo credo. E dunque i turisti confermano la città piace, ma in assenza del tradizionale concerto di Capodanno in piazza, c'è chi avrebbe voluto maggiori iniziative. La città è molto accogliente. Veniamo da Napoli e siamo stati bene, molto bene. Le è piaciuto il Capodanno a Benevento? Sì, è stata un'esperienza diversa, bella. Quest'anno ho visto che in città ci sono stati pochi eventi. Altri anni sono stati fatti dei concerti. Lavoro, pace e serenità. Ecco cosa sperano i napoletani per questo nuovo anno. Vediamo il sondaggio. Spero tanto per questo nuovo anno che ci sia salute e soldi per tutti e soprattutto un futuro migliore per i nostri giovani, i nostri figli, perché la situazione è qui abbastanza critica. Quest'anno nuovo spero che il lavoro vada bene, spero di ritrovare un po' di serenità e va bene così. Salute, lavoro e tranquillità. Niente di che. Anche perché gli altri anni quando abbiamo queste grandi aspettative solitamente non si realizzano. E poi in Napoli che vada sempre avanti. Di stare un po' tutti, un po' meglio tutti quanti perché la situazione adesso sta diventando critica in Italia. Di conseguenza speriamo bene per tutta la popolazione del mondo. 2023 buoni propositi, più lavoro e un po' di pace nel mondo che ci serve, niente guerre. In Napoli che varrà bene, tutte queste cose che ci faranno molto piacere. Un augurio a tutti i politici che abbiano una mente sana, sanissima, affinché tutto si possa sistemare. E a Salerno sulla spiaggia della Baia si è rinnovato l'appuntamento con il tuffo di Capodanno, una tradizione che va avanti ormai da 40 anni. Filippo Notari. Un tuffo in mare per rinnovare la tradizione e bagnare nel migliore dei modi l'inizio del nuovo anno. A Salerno sulla spiaggia della Baia è tornato l'appuntamento con il bagno di Capodanno. L'iniziativa organizzata dalla società Peppe Lamberti Nuoto rappresenta una classica salernitana che da circa 40 anni si tramanda di padre in figlio. Noi abbiamo un grandissimo rapporto con il mare, noi salernitani. Rinnoviamo questo rapporto con l'auspicio di un anno sereno soprattutto per tutti i salernitani al quale va il nostro augurio e per la nostra salernitana perché siamo tutti tifosi Granata e speriamo bene per tutti. Tra l'altro voi siete una società di nuotatori quindi si rinnova anche il rapporto con la vostra passione. Sì, noi siamo della Peppe Lamberti Nuoto Club, abbiamo una società di nuoto in acqua e libere e questo è proprio un sigillo annuale che sia di auspicio per tutta la stagione agonistica. Quest'anno le insolite temperature primaverili hanno reso più semplice la sfida dei nuotatori che sono riusciti ad aggregare intere famiglie. Noi infatti lo facciamo con tutte le condizioni medie, però abbiamo approfittato oggi della bella giornata, è stato bello perché siamo riusciti ad avere tanti amici che hanno fatto oggi il tuffo ed è stato bello proprio per questo. Proprio il clima mite tra l'altro ha spinto decine e decine di persone a riversarsi in spiaggia per trascorrere un capodanno all'insegna del sole e del mare. E sono sannite le prime nate del 2023 in Campania, due bimbe venute al mondo a mezzanotte e un minuto all'ospedale San Pio di Benevento. Maria Teresa De Lucia Doppio fiocco rosa e primato regionale a Benevento, Gaia e Francesca Marì sono le prime nate del 2023 in Campania e sono venute al mondo entrambe a mezzanotte ed un minuto nel reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Pio di Benevento. Sono nato i due bambini e poi c'è stata una terza nata alle 6.45 più la prima di messe è stata anche una donna, quindi credo che il 2023 sia l'anno all'insegna delle donne. Sì è stato bellissimo perché le due donne in contemporanea a mezzanotte hanno partorito e quindi è nata Gaia che è la terzo geni da 2,6 a 75 e Francesca Marì che 3,7 a 70 è la prima nata. Le piccole e le loro mamme stanno bene, con i papà hanno festeggiato insieme all'equip medica che li ha assistiti, i vagiti dei nuovi nati sono per noi segno di speranza e forza, ha commentato il direttore generale del San Pio Maria Morgante. Un lavoro possibile grazie allo staff di ostetricia e ginecologia col supporto dei neonatologi, ha aggiunto ancora il direttore della TIN Francesco Cocca che ha tracciato anche il bilancio del 2022 per quel che riguarda le nascite. Abbiamo superato i 900 nati, sono 902, con un incremento rispetto all'anno precedente del 25%, quindi è un trend in crescita che è un dato molto importante per noi. A gennaio riparte il reality di 8 Channel, oggi vi presentiamo il primo concorrente ufficiale di questa edizione di Prenditi Cura di Me a 29 anni e viene da Roma, il suo nome è Michael. Nuovo anno e nuova edizione del primo reality dedicato al benessere di mente e corpo di 8 Channel TV. A febbraio parte la seconda edizione di Prenditi Cura di Me, il format interamente girato al Caravaggio Sporting Village di Napoli. I casting si sono chiusi ed è prontissima la squadra di concorrenti per iniziare la nuova avventura televisiva con i sei coach tra fitness, psicoterapia e nutrizione. Si chiama Michael Forte, il primo concorrente ufficiale che racconta la sua emozione per l'inizio di un'avventura che ha il sapore della rinascita. Mi aspetto di migliorare con me stesso e di darci tutto, il massimo, poi anche nuove conoscenze, no? E mi fa piacere che mi sto un attimo lasciando andare. Ti senti a casa, l'accoglienza che è forte e calorosa. Già c'è una bella confidenza tra di noi. Che concorrente sarai? Sono forte, però automaticamente sono un po' fragile perché io tendo sempre a pensare agli altri che a me. Questa volta mi sto concentrando su di me. Tra i banchi dei giudici c'è Rosanna Vigorito, madrina del format e proprietaria del Caravaggio Sporting Village, Massimiliano Gaudino, coach dedicato alla psicoterapia. Tania Ricciardi e Giuseppe Pisano che si occuperanno della nutrizione, mentre Marco De Rosa e Francesco Pappadia saranno i coach che si occuperanno dell'area fitness. Rispetto al primo anno cercheremo di intrattenere di più le persone su quella che poi è la vita stessa, che è fatta di momenti pensanti, come dico sempre io, ma anche più divertenti, autoironici. Quella che attende i telespettatori è una nuova edizione che partirà all'insegna della sfida, del divertimento e delle emozioni. Sicuramente con il meccanismo di quest'anno per tutti sarà quello di guardarsi le spalle, perché ci sarà qualcuno che potrebbe prendere il posto. Ed è tutto per questa edizione di 8 Channel News. Grazie in regia ad Aldo Fenizia. Buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.